Ehi, dottor Speranza? Sì, sono io, chi parla? Franco Paradiso, della... Tenda lo film. Mi dica. Devo fare un film, mettere insieme una truppa, mandarla in Armenia e ricevere un finanziamento europeo. La truppa? In Armenia abbiamo un'altra gente, non ti preoccupare. Metà del fondo viene erogato, tu torni in Italia e lasciati quei coglioni. Prima che ci beccano siamo già spariti tutti e due. Una banca incinta è uno scogliato. Cominciamo bene. Andiamo, va. Il lavoro che fai? Una mignotta. Non c'è bisogno di dirlo agli altri. Io sono sicura che tu sarai una bravissima protagonista. Hotel Gagari, un ottimo ospizio. A me più che un gruppo di professionisti mi sembra una banda di disperati. Io faccio tutto quello che mi dici, te, professionale. Vuoi che ti faccia un pompino? Non ho capito. Che guerra. Mi dispiace, Valeria, stavolta è andata così. Cazzo! Quel fio della mignotta è scappato con i soldi e ci ha lasciato qua. Venite. C'è una cosa che dovete vedere. È gente del villaggio. Dicono qui, si girano sogni. Le cose accadano da soli. O per magia. Due mesi e nessuno è venuto a prenderli. Fa stare da lunghe. Non c'erano mai la fabbrica dei sogni. Lei sogna molto? Molto. La 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 la. Oh, bel posto, eh? Vuoi di mare, ma? Due mesi qua. Vuoi di mare. Vuoi di mare, ma? Lumio di mare, ma? Di rä restrictions. 선un. Grazie a tutti.